Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar in diretta dall'Innova Lab di Campus Store. Oggi pomeriggio ho il piacere di avere qui a Alessandro di BenQ, parleremo del bando Digital Board e nello specifico parleremo delle soluzioni BenQ per la scuola e per Digital Board. Alessandro lo ringrazio di essere qui, come ringrazio tutto il team di BenQ in sopportarci in questa grande avventura nei prossimi mesi e Alessandro vi spiegherà tutti i vantaggi della soluzione BenQ per il mondo della scuola e poi alla fine sarà possibile anche mandare delle domande già durante il webinar a cui Alessandro risponderà alla fine. Vi ringrazio dell'attenzione. Per chi volesse venire a provare i monitor BenQ sono disponibili presso il nostro Innova Lab di Bassano a giorni saranno disponibili anche in un punto demo a Ferrara e avremo a disposizione anche presso la sede di BenQ Italia a Milano per l'esattezza a Sesto San Giovanni anche lì nei prossimi giorni settimane sarà possibile andare a provare i prodotti. Credo sia fondamentale riuscire a provare i prodotti, poterli testare, parlare con i tecnici, parlare con gli esperti per renderci conto di quanto state acquistando. È fondamentale valutare il prodotto, l'assistenza tecnica pre-vendita, post-vendita e chiaramente la serietà delle aziende. Per cui non comprate a scatola chiusa ma avete la possibilità di provare. Grazie a tutti e passo la parola a Alessandro che sicuramente parlerà di cose più interessanti. Grazie per Luigi, grazie a tutti voi di partecipare a questo evento e grazie a Campus Store di aver organizzato questo evento. Oggi vi parlerò dei nostri monitor interattivi. Intanto due parole su BenQ. Chi è BenQ è una multinazionale che si è sempre occupata di innovazione tecnologica col focus principale di andare a soddisfare le reali esigenze degli utilizzatori. Quindi non di andare a produrre su un semplice prodotto hardware ma di strutturarlo e di svilupparlo in funzione alle reali esigenze di chi lo utilizza. Una forte attenzione di BenQ è quella della salvaguardia della salute degli utilizzatori. in particolare perché c'è stato un forte sviluppo, sempre nell'ambito della salute, di monitor che vanno a autosanificarsi. Nello specifico i nostri monitor appunto hanno un vetro protettivo chiamato germ resistant che grazie a dei nanoioni d'argento che vengono polimerizzati in fase di produzione dello schermo vanno ad abbattere completamente la carica batterica che si annida sullo schermo stesso. Sui principali batteri in circolazione. Quindi avete sempre un ambiente sano, sempre un prodotto sanificato per l'utilizzo. Oltre a questo ovviamente tutto certificato con due enti certificatori di un certo livello quindi nello specifico l'ente certificatore TUV e l'ente certificatore giapponese SIA. Oltre a questo c'è una forte attenzione alla salvaguardia della vista dell'utilizzatore perché stando tanto tempo davanti al monitor, lo sapete meglio di me, dopo un po' la forte luminosità, la tipologia di schermo che si ha di fronte spesso va a dare, a creare problemi alla vista. Allora BenQ ha sviluppato la tecnologia Classroom Care che è una tecnologia che prevede lo blue light filter quindi la riduzione dei raggi blu dannosi per la vista, il flicker free, quindi quella tecnologia che permette di evitare lo sfarfallamento che a occhio nudo magari noi non percepiamo, però molti monitor appunto per una questione di frequenza e di aggiornamento si ha uno sfarfallamento che a lungo andare può creare bruciori alla vista, può creare mal di testa, può dare fastidio appunto a chi lo utilizza per lungo tempo. Oltre a questo c'è anche la possibilità di andare a impostare dei settaggi in modo da avere una regolazione automatica della luminosità in funzione della luminosità ambientale, quindi c'è una forte attenzione alla salvaguardia della salute dell'utilizzatore. Andiamo a vedere un po' come è strutturato il monitor. I nostri monitor sono monitor tutti 4K con vetro protettivo, come ho detto prima, col germ resistant, abbiamo una soundbar frontale con degli speaker 16 watt, quindi il vantaggio di avere la soundbar frontale è di avere un suono diretto verso gli ascoltatori e non un suono di rimbalzo come accade con i monitor che hanno di speaker situati nella parte posteriore, quindi l'esperienza di ascolto dei partecipanti è migliore rispetto a monitor che hanno speaker posteriori. Sono monitor con tecnologia touch IR zero bonding. Cosa significa zero bonding? Significa che il punto di tocco e il punto di visualizzazione coincidono, quindi non c'è un disassamento tra il punto di tocco e il punto di visualizzazione, quindi non si ha quella sensazione di spostamento del tratto rispetto al tocco. Quindi anche l'esperienza di uso è molto più simile alla scrittura che siamo abituati ad avere quando scriviamo sulla carta. Sono monitor molto reattivi a livello di tocco, quindi non abbiamo l'effetto trascinamento, quindi l'esperienza, come dicevo, è molto simile a quella che siamo abituati a avere tutti i giorni. Sono monitor con un sistema operativo già integrato, quindi l'idea di BenQ è quella di creare una soluzione all-in-one che non necessiti l'utilizzo di dispositivi esterni. Ovviamente nessuno vi vieta di utilizzare questo monitor collegando il buon vecchio PC, il buon vecchio portatile al monitor tramite le connessioni classiche, HDMI, VGA e quant'altro. Però l'idea è quella di cercare di avere una soluzione che vi permette di fare lezioni, per fare relazioni, per tenere le vostre lezioni senza portare niente a corredo. Quindi dicevo, sistema operativo Android con tutta una serie di applicazioni preinstallate, che sono le classiche applicazioni che si utilizzano normalmente durante una lezione. Quindi tutte le applicazioni che vi permettono di aprire presentazioni, file Excel, file Word, PDF. Abbiamo il browser integrato, abbiamo la possibilità di mandare in stampa i documenti, come abbiamo la possibilità anche di utilizzare il nostro PC o soluzioni esterne in modalità wireless, quindi senza avere i nostri buon vecchi cavi, che spesso cosa succede? Abbiamo il cavo, ma non abbiamo l'adattatore, ci sono sempre problemi di compatibilità con i dispositivi. Quindi tramite una semplice applicazione e la Wi-Fi è possibile trasmettere i contenuti dal PC o dal dispositivo mobile, quindi uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo, verso il monitor, in piena compatibilità di piattaforma. Quindi non ci sono limitazioni per quanto riguarda i sistemi operativi. Io posso avere un sistema WINS, posso avere un sistema iOS, posso avere un sistema Android e posso sempre trasmettere al monitor. Quindi piena compatibilità. In aggiunta a questo, InstaShare è anche pienamente compatibile con AirPlay e Google Cast. Quindi io posso trasmettere senza neanche bisogno dell'applicazione con queste due modalità. Cosa si può fare con questa applicazione, con questo software? È possibile trasmettere dai dispositivi verso il monitor con un semplice tocco. Quindi io trasmetto. Come vedete qui, basta semplicemente scegliere la soluzione di casting e trasmetto, quindi replico il mio portatile, il mio tablet, il mio smartphone sul monitor. Posso scegliere se trasmettere in modalità duplica schermo o estendi schermo. Ma come vedete, nella parte bassa, io posso anche selezionare screen mirroring. Cosa mi permette di fare? Mi permette di ricevere sul mio dispositivo quello che viene visualizzato a schermo. Quindi vedete che io sto ritrasmettendo dal monitor verso il mio dispositivo quello che viene visualizzato a schermo. Questo sistema, oltre a trasmettere audio e video, vi supporta il touchback. Cosa significa? Guardate, io sto gestendo il mio computer da qua senza cavi, senza necessità di cavi aggiuntivi. Quindi ha questa possibilità. Oltre a questo, io posso utilizzare questa applicazione in due modalità. Schermo intero, quindi un presentatore fa il mirroring del suo dispositivo a schermo intero, o modalità schermo diviso. Quindi in questa modalità qua io posso avere più partecipanti che si collegano in wireless al monitor e posso visualizzare a pieno schermo, schermo diviso in due, schermo diviso in quattro o in altri modelli anche fino a nove contemporaneità. Quindi posso trasmettere e visualizzare a schermo più partecipanti. Altre potenzialità di questo monitor qui è il fatto di poter utilizzare la lavagna, di poter utilizzare il browser, quindi di navigare, di avere tutte quelle soluzioni, quegli applicativi che normalmente siamo abituati a usare in classe. Andiamo a vedere la parte di lavagna. Vedete l'interfaccia, l'interfaccia è molto semplice, intuitiva, ma non fatemi ingannare, è semplice non perché è limitata, è semplice perché è stato voluto renderla semplice per far sì che tutti, chi ha più esperienze e chi ha meno esperienza, non si trovino bloccati nell'utilizzo. Vedete che l'interfaccia è intuitiva, abbiamo il classico strumento selezione, lo strumento penna, quindi singolo colore, ovviamente multitocco, quindi con un colore posso comunque fare più tocchi contemporanei. Questo è importante perché anche a livello di collaborazione voi potete scrivere in due o più persone contemporaneamente sulla lavagna. Abbiamo una modalità doppia penna, quindi posso andare ad avere due penne e posso andare a impostarla con due colori diversi e scrivere contemporaneamente con due colori diversi. Oppure abbiamo la modalità pennello, quindi in base alla pressione del tocco posso andare a fare un tocco più sottile o più spesso, quindi proprio come si usa col pennello normalmente. Strumento gomma, quindi seleziono la parte da cancellare, oppure in un semplice gesto, mano sullo schermo e cancello. Quindi come se avessi in mano un cancellino. Abbiamo tutta una serie di strumenti come calcolatrice, riconoscimento di forme, io semplicemente vado a disegnare un cerchio, lui me lo riadatta, me lo corregge e a questo punto lo posso esportare e gestire come un oggetto. Vedete, le gesture sono le classiche gesture che siamo abituati a usare tutti i giorni con il nostro smartphone o il nostro tablet. Abbiamo una serie di altri tool come il cronometro, come il timer, come il post-it, quindi immaginatevi una lezione, non so, di chimica, fate vedere un'immagine, andate a inserire un commento e potete abbinarlo all'immagine. Come potete andare a utilizzare un tabellone segnapunti, potete andare a utilizzare lo strumento estrei a sorte, non so, per le interrogazioni magari. Come potete andare a dividerlo schermo in tre parti. Questa modalità è molto interessante perché ognuno può andare a lavorare in maniera indipendente sulla sua parte senza mai andare a interagire con la parte adiacente. Potete andare a creare una domanda che viene incollata su tutte le parti e ognuno può fare il suo sviluppo in maniera indipendente. Una volta fatto lo sviluppo dell'argomento potete tranquillamente salvare in maniera indipendente ognuna delle parti, delle sezioni, oppure potete condividerle. Poi andremo a vedere anche come possiamo condividerle. Possiamo andare a importare documenti, possiamo andare a importare immagini e documenti, quindi immagini, JPEG, PNG, TIFF o quant'altro, in maniera molto semplice. Adesso andiamo a prendere un'immagine. Io posso, in maniera immediata, posso andare a caricare un'immagine e gestirla come un oggetto, posso ruotarla, spostarla con le classiche gesture. Posso andare a importare dei documenti. Prendiamo questo. Un semplice PDF viene... Come lo gestisce? Lui va a prendere il documento, va a valutare, va a vedere di quante pagine è composto il documento e va a incrementare il numero di pagine della lavagna in base al numero di pagine del documento stesso. A questo punto noi avremo una gestione indipendente delle pagine del documento. Quindi io posso andare a fare annotazioni dedicate per ogni pagina del documento. Io posso anche andare a modificare la posizione, posso andare a cancellare alcune pagine, posso gestirle in maniera molto flessibile. Posso andare a cambiare il colore di sfondo, posso andare a impostare degli sfondi personalizzati in base ai template, in base all'argomento, in base alla materia. Quindi io potrei anche tranquillamente andare a impostarmi il mio pentagramma e andare a lavorare su uno sfondo dedicato. Fin qui, vabbè, non vi ho detto niente di particolare. Sono impostazioni abbastanza classiche. Andiamo a vedere un po' la parte sinistra. Allora, cosa possiamo fare? A livello di salvataggio noi possiamo andare a gestire il salvataggio in due modalità. Posso scegliere se salvarlo come PDF o come immagine. Però posso, come vedete, io posso andare anche a selezionare le pagine che voglio salvare e deselezionare quelle che non mi interessa salvare. Quindi posso fare anche dei salvataggi parziali. A questo punto l'unica cosa che devo fare è decidere dove salvarli. Il monitor è un hard disk interno, quindi ha 32 giga a disposizione che possono essere utilizzati. È possibile configurare delle unità di rete in modo da salvarli su cartelle condivise. Ma come vedete qui abbiamo anche la possibilità di andare a salvarli su dei cloud storage che poi andiamo a vedere come possono essere configurati. Quindi hai diverse possibilità. Ovviamente nessuno vi vieta di salvarlo sulla classica chiavettina USB o un hard disk USB da collegare sulle porte disponibili. Ok, un'altra cosa che possiamo fare è questo. Condivisione. Posso mandare il documento in stampa direttamente perché può essere configurato in modo da mandare in stampa il documento. Posso mandarlo via email direttamente da qua senza doverlo salvare su chiavetta, portarlo su PC, mandarlo via mail. Quindi una gestione più rapida e immediata. Quello che vi dicevo prima è appunto proprio il discorso di fare in modo che l'esperienza di utilizzo diventi semplice, immediata e senza troppe complicazioni. Oppure posso usare il QR code. Anche qui scelgo come deve essere condiviso, quindi come PDF o come immagine, scelgo le pagine che voglio condividere e nel momento in cui io faccio condividi, lui andrà a caricare il materiale sul cloud, crea questo QR code e semplicemente inquadrando questo QR code col proprio dispositivo otterremo sul dispositivo tutto il materiale in maniera immediata. Quindi è un ottimo modo rapido per condividere il materiale con i partecipanti. Benissimo. Oltre a questo abbiamo la possibilità di registrare, registrare tutto quello che viene fatto a video. Quindi tutto quello che viene fatto a video può essere registrato. Se abbiniamo una webcam con un microfono USB, possiamo anche andare a registrare tutta la parte vocale. Quindi abbiamo una lezione completa a disposizione che possiamo condividere con chi non ha potuto partecipare magari alla lezione stessa. Abbiamo un'altra modalità di collaborazione molto interessante e molto utile. Io posso andare a invitare tramite la scansione di un semplice QR code o utilizzando questo sito https.bankview.com posso andare a invitare i partecipanti a lavorare sul foglio di lavoro. Quindi adesso vi lascio qualche secondo per fare la scansione. Ok, a questo punto chi si è collegato avrà modo di vedere esattamente questa pagina qua. Quindi sul proprio dispositivo vedrà esattamente quello che io scrivo in tempo reale. La cosa che noterete è che sul vostro dispositivo queste funzionalità qua, quindi tutti gli strumenti, sono disabilitati. Perché? Perché di default lui lavora in modalità broadcast. Quindi cosa significa? Il relatore parla e chi è collegato può soltanto visualizzare quello che viene fatto. Se io abilito la modalità co-creation, a questo punto sto dando le permission, sto dando le abilitazioni a chi c'è dall'altra parte di lavorare sullo stesso foglio di lavoro. Quindi io in questo modo qui sto lavorando in maniera bidirezionale e collaborativa con gli utenti. Vedo che comunque qua c'è molta collaborazione. Posso tranquillamente andare a prendere del materiale, delle immagini, dei documenti e caricarlo sul foglio di lavoro e chi c'è dall'altra parte vedrà l'immagine o il documento. e potrà anche interagire, potrà anche collaborare in maniera attiva sul documento stesso. Ok, vediamo un po' le altre potenzialità di questo monitor qua. Questo monitor qui, come anche le altre serie, possono essere configurati appoggiandosi a dei servizi cloud che BenQ offre. Sono tre servizi che vanno a coprire un po' le diverse esigenze. Uno tra tutti è DMS, Device Management Solution. È un servizio cloud molto focalizzato per i DT manager o comunque chi gestisce il parco installato, chi gestisce i dispositivi. Che cosa permette di fare? Tramite una semplice interfaccia web è possibile visualizzare tutti i monitor che sono installati e sono collegati a questo servizio. Qual è il vantaggio? Che potete vedere lo stato del monitor, potete vedere lo stato di utilizzo, potete gestire accensioni, spegnimento, configurazioni da remoto, potete gestire gli aggiornamenti firmware e la gestione delle applicazioni. Questo è un elemento molto importante perché evitate di fare il giro di 30, 40, 50 aule e fare la gestione uno a uno su ogni monitor. Questo lo potete fare da una semplice pagina web e fare tutto quanto dal vostro ufficio e fare una gestione centralizzata del parco installato. I nostri monitor hanno un sistema di aggiornamento online OTA, quindi over the air, che permette di far sì che quando c'è un aggiornamento disponibile comparano una notifica sul monitor e quindi viene reso disponibile senza dover andare a cercarlo manualmente su sistemi o sui vari database. Bene, viene rilasciato e poi ognuno può tranquillamente gestire la parte di aggiornamento. Un altro sistema, un altro servizio cloud è il broadcast setting. Broadcast setting cosa permette di fare? È un sistema di messaggistica e di alert che permette di comunicare in maniera rapida con gli utilizzatori dei monitor. Vi faccio un esempio proprio concreto. Un preside deve fare una comunicazione ai propri docenti, e ai propri studenti. Invece di mandare la persona dedicata per ogni aula a consegnare l'abiso, può tranquillamente da una semplice pagina web creare l'annuncio, creare il messaggio testuale o può caricare un'immagine già pronta o un documento già pronto che descrive appunto il messaggio che vuole mandare, inviarlo su tutti i monitor, il messaggio comparirà in overlay sul monitor stesso, quindi indipendentemente da quello che viene visualizzato a schermo. Questo messaggio andrà al di sopra di quello che viene visualizzato e quindi sarà reso disponibile a tutti i partecipanti. Quindi è un modo molto rapido e molto immediato per comunicare, per fare comunicazione messaggistica. Prima di andare a vedere l'ultimo servizio AMS, quindi la soluzione multiutente, volevo farvi vedere un'altra cosa. Io adesso vi ho parlato sempre del mondo Android preinstallato sul monitor. Ovviamente nessuno vi vieta di collegare i vostri PC con i cavi oppure di utilizzare l'OPS perché questi monitor hanno uno slot OPS all'interno del quale potete inserire un PC dedicato col sistema operativo che volete. Quindi potete mettere un Chromebook, potete mettere un sistema operativo Windows e usare tutte le applicazioni del mondo Windows. Quindi nessuno vi vieta di usarlo in questa modalità. Nel momento in cui scegliete l'OPS, tutti, tutte le periferiche, audio, video, touch, porto di rete, eccetera, eccetera, vengono resi disponibili sull'OPS. Quindi io a questo punto posso gestire il mio PC col touch senza problemi. Cosa posso fare? Posso tranquillamente andare a fare annotazioni utilizzando questo tool. Si chiama Floating Tool. Questo tool è possibile abilitarlo su qualsiasi sorgente visualizzata a schermo, che sia l'OPS, che sia un PC collegato in HDMI, che sia un dispositivo smartphone collegato con le applicazioni, qualsiasi cosa. È possibile abilitare questo strumento qui e fare annotazioni perché lui va a lavorare in overlay, va a mettere un livello trasparente al di sopra di quello che viene visualizzato e quindi posso fare annotazioni con diversi colori su qualsiasi cosa. A questo punto cosa posso fare? Io posso anche scegliere di registrare il video e l'audio, nel caso in cui abbiamo collegato appunto un sistema di acquisizione come la webcam con i microfoni. Posso andare a fare degli screenshot, quindi posso scegliere se fare uno screenshot totale dello schermo o parziale, quindi semplicemente riducendo i punti d'ancoraggio, o con una semplice gesture, due dita, e vado a selezionare l'area che voglio acquisire. A questo punto, una volta che ho selezionato l'area che voglio acquisire, posso scegliere se salvarla sull'ARBISC, sui cloud storage, sulla chiavetta o dove voglio, o importarla nella lavagna. Adesso lui cosa fa? Passa di nuovo sulla lavagna e mi ha importato lo screenshot e a questo punto me lo posso gestire come voglio. Altre cose che posso fare, ovviamente questo tool lo potete abilitare o appoggiando due dita sullo schermo, oppure dai menu laterali, cliccando sull'ultimo iconcino in basso. Menu laterali, come vedete, ci sono da entrambe le parti, quindi possono richiamare diverse funzionalità. Posso da qui direttamente aprire un documento, quindi andare a richiamare il nostro AMS file, quindi quello che siamo comunemente abituati a chiamare l'Esplora Risorse in Windows. Posso cancellare le annotazioni oppure posso aprire direttamente la lavagna da qua. Anche questo può lavorare in modalità dual pen, quindi due pennini contemporaneamente con due colori diversi. Il monitor può lavorare con i pennini o con le dita indipendentemente, senza necessità di configurazioni particolari, quindi potete tranquillamente lavorare in tutte e due le modalità. Andiamo a vedere la parte di AMS, quindi l'ultimo servizio. Questo servizio qua permette di andare a creare tutta una serie di utenti che potranno utilizzare il monitor. Che cosa significa? Io posso creare degli utenti, quindi tutti i docenti di una scuola avranno la propria utenza, ogni utente avrà le sue credenziali, quindi nel momento in cui arriva in classe si troverà questa schermata qua. Quindi cosa può fare? Accede con la propria utenza, mette la sua user e la sua password e entrerà nel suo spazio di lavoro personalizzato. Quindi voi nel momento in cui fate la login avrete sempre il vostro spazio personalizzato in qualsiasi classe andate. Quindi io lavoro in questa classe qui, accedo con le mie credenziali, avrò la mia personalizzazione, il mio spazio di lavoro. Vado nell'altra classe, accedo con le mie credenziali e mi ritroverà sull'altro monitor esattamente la stessa configurazione che ho su questo monitor qui. Quindi avete un ambiente di lavoro sempre unico e vostro dedicato, personalizzato. Come posso fare la login? User e password, oppure siccome sappiamo tutti che gli studenti sono lì pronti a cercare di cogliere la password del docente per il login, posso tranquillamente scegliere l'opzione QR code, faccio la scansione con il mio telefono, le credenziali le digito da qua e lui farà la login automatica del mio profilo senza far sì che venga visualizzato appunto, vengono visualizzate le password o i dati sensibili. Su un'altra serie di monitor, la serie RP, c'è la possibilità di fare anche un'associazione tra sensore NFC e utenza. Quindi nel momento in cui io mi creo la mia tesserina NFC, l'associo all'utenza, avvicino la tesserina NFC al sensore che c'è già a bordo del monitor e il monitor aprirà automaticamente il mio profilo. Nel momento in cui io apro il mio profilo, dal cloud verranno scaricate le mie impostazioni, le mie personalizzazioni, quindi in questo caso io ho messo uno sfondo dedicato, ho impostato in questo spazio qui le applicazioni che più utilizzo, ho impostato una serie di widget nella parte alta e ogni volta che io faccio login in questa sezione qui, con le mie credenziali, avrò sempre questa interfaccia. Quindi è un modo per standardizzare l'area di lavoro. In qualsiasi classe si vada, senza dover avere in una classe una configurazione, in una classe un'altra configurazione, in un'altra classe un'altra configurazione. Giustamente voi potreste dire, ma sì, va bene, è bello tutto quello che vuoi, però nel momento in cui è solo una personalizzazione grafica, ha poco valore aggiunto. Non è solo una personalizzazione grafica, ogni utenza può essere associata ai propri personali cloud storage. Quindi nel momento in cui io creo il profilo, l'utente può andare ad associare il proprio profilo al proprio cloud storage come Google Drive, Dropbox e OneDrive, in modo da avere accesso diretto al proprio materiale. Quindi qual è il vantaggio? Io, io docente, io relatore, mi preparo la mia lezione a casa, la carico sul mio drive, vado in classe senza PC, senza niente, accedo con le mie credenziali e ho accesso diretto al mio cloud storage. A questo punto posso aprirmi il mio materiale senza neanche bisogno di fare, senza bisogno di nessun tipo di dispositivo esterno. Come posso aprirlo? Posso aprirlo in due modalità. Scaricarlo in locale, quindi sull'hard disk interno, e aprirlo con le applicazioni preinstallate come WPS Office o altre applicazioni, o aprirlo online. Io in questo modo qui, cosa ho fatto? Ho aperto il documento sfruttando i servizi dei server Google o dei server Microsoft online. Quindi io non ho scaricato sul mio dispositivo il documento, lo sto aprendendo online e posso tranquillamente visualizzarlo, oppure nel caso di Word, PowerPoint o di Excel, posso editarlo, modificarlo, e posso anche qui, come dicevo prima, richiamare questo tool e fare annotazioni, evidenziare, sottolineare o gestire il mio documento come meglio credo. Quindi posso andare a registrare, posso andare a fare acquisizione e tutto quanto. Quindi l'idea di questa soluzione qui è quella di andare a cercare di creare uno standard di utilizzo su tutte le classi. Altre cose che si possono fare in questo monitor qui è videoconferenze. In questo momento in cui c'è più necessità di comunicare a distanza per tutti i motivi che conosciamo, il monitor offre già un client di videoconferenza, nello specifico quello di team viewer meeting, che permette di fare videoconferenza e di condividere lo schermo con chi non è presente in aula. quindi si aggiunge una webcam, si lancia il client di videoconferenza team viewer meeting e si fa videoconferenza con chi c'è dall'altra parte. Quindi anche qui un modo molto rapido e molto immediato per far sì che ci sia sempre la collaborazione, non siano più lezioni monodirezionali, ma devono essere lezioni comunque collaborative e a distanza. Avete qualche domanda nel frattempo? Qualche dubbio? Sembra di no. Ok. Bene, io direi che... Allora, Google Meet, è vero che prima vi ho detto che questo è un sistema di... è un sistema basato su Android, però attenzione perché non è un Android come quello che siamo abituati a conoscere sui nostri dispositivi, è un Android sviluppato e dedicato per questi monitor qui. È possibile aggiungere alcune applicazioni, ma non tutte. Ad esempio, le applicazioni che sfruttano i Google Service non è possibile installarle, ma nessuno vi vieta di fare così, di utilizzare OPS col sistema operativo Windows e qui potete installare tutto quello che volete. In alternativa, se non volete andare ad aggiungere l'OPS, potete sfruttare le potenzialità di InstaShare. Come prima vi ho fatto vedere, InstaShare vi permette di fare trasmissione in una direzione, scusate, in una direzione, ma anche nell'altra. Adesso io sto trasmettendo dal PC verso il monitor, ma posso fare anche il contrario. Io posso tranquillamente ricevere sul mio PC, adesso è un po' piccolino, ricevere sul mio PC quello che viene visualizzato a schermo e a questo punto dal mio PC posso attivare una videoconferenza in Google Meet e far vedere a chi c'è dall'altra parte tutto quello che io faccio qua. Quindi c'è sempre una possibilità di aggirare l'eventuale problema, c'è sempre la possibilità di trovare una soluzione. In un modo o nell'altro comunque c'è la possibilità. Come dicevo, ci sono delle applicazioni già integrate, si possono integrare alcune applicazioni, non tutte, però nel caso in cui ci sia la necessità di utilizzare quelle applicazioni che non possono girare su questo sistema operativo, c'è sempre il modo per poter gestire la comunicazione a distanza, la direzione ibrida in diverse modalità. Altre domande? Quale compatibilità con Linux? Allora, è compatibile, immagino che intenda a livello di touch, quindi nel momento in cui si collega un dispositivo esterno al monitor, la compatibilità touch. Sì, è pienamente compatibile con i principali sistemi operativi Linux. come dicevo prima, è un sistema cross-platform, quindi è trasversale su un po' tutti i sistemi operativi. Anche il Mac? Sì, assolutamente. Anche il Mac, per quanto riguarda la trasmissione wireless, il Mac non ha neanche bisogno dell'applicazione InstaShare da installare sul Mac, ovviamente la potete installare per avere la bidirezionalità, ma se non volete installare applicazioni, potete utilizzare l'AirPlay, perché è pienamente compatibile con l'AirPlay. Stessa cosa con i Chromebook, possono trasmettere direttamente senza la necessità di applicazioni aggiuntive. Ma chiedo se è 10 o 20 tocchi? 20 tocchi. 20 tocchi. Il monitor supporta 20 tocchi. Ovviamente nella modalità Android è limitato a 10, ma è un limite di Android questo. Poi è anche vero che 10 tocchi tendenzialmente sono più che sufficienti. È vero che c'è la possibilità di lavorare in più persone, però poi diventa affollata. Chiedono anche quanti formati ci sono nel mondo. Ok, come formati abbiamo diversi tagli, abbiamo 65, 75 e 86 pollici. Nella serie RM c'è anche la versione 55 pollici che però a tendere andrà a scomparire perché è comunque un taglio un po' piccolo per le aule. quindi in genere i più gettonati sono 65, 75. Una cosa che non vi ho detto prima è che tutti i nostri monitor hanno anche l'uscita HDMI out. Che cosa serve? Serve per far sì che in quegli ambienti particolarmente grandi dove comunque anche un 86 pollici non possa soddisfare a livello visivo chi è magari nella parte più lontana della stanza è possibile prendere il segnale dall'HDMI out e replicarlo su un altro dispositivo. Qua ad esempio l'ho fatto collegando il monitor però vi faccio un esempio in un auditorium anche se avete un 86 pollici chi è in fondo alla sala difficilmente vedrà bene quello che viene visualizzato a schermo anche se è uno schermo comunque con una buona luminosità un buon contrasto però è proprio una questione di distanze. In genere cosa si fa? Si prende l'uscita HDMI out che replica qualsiasi cosa venga visualizzata a schermo che sia Android che sia un PC collegato un PC OPS che sia un PC collegato esternamente con InstaShare e replica pari pari su quell'uscita quindi voi potete prendere quel segnale video e audio e riportarlo in una regia in un proiettore o comunque una situazione che permetta di replicare tutto quanto oltre a questo ha un sistema di gestione anche di microfoni esterna quindi è possibile collegare un microfono esterno al monitor e la soundbar sotto fa da amplificazione per le aule quindi è possibile anche utilizzarla come rinforzo sonoro qualche altra domanda poi chiedono posso vedere cosa fanno gli studenti che si muove dai loro PC no non è possibile vedere cosa fanno gli studenti sul loro PC è possibile nel momento in cui si collega si collegano tramite InstaShare in modalità multiutente è possibile vedere chi c'è collegato ma non è possibile vedere quello che gli studenti stanno facendo sul PC stesso anche per una questione di privacy nella modalità lavagna quando noi andiamo a invitare i partecipanti a lavorare sulla sulla sessione di sull'area di lavoro magari adesso vi invito a rifare di nuovo la scansione del QR code in modo che vediamo un po' come come lavora ok nel momento in cui ad esempio io carico un'immagine scusate un attimo che recupero un'immagine al bolo quando qualcuno va a selezionare l'elemento comparirà il nome della persona che ha selezionato l'elemento ok adesso ecco vedete adesso la persona che si è identificata con BS viene visualizzata appunto sull'immagine altre domande? si chiedono RAM ok l'OPS a questo punto no beh l'OPS dipende da quello che scegliete voi non viene fornito con un OPS c'è lo slot OPS quindi la scelta rimane all'utilizzatore l'utilizzatore può scegliere tranquillamente l'OPS che più l'OPS che preferisce con le caratteristiche che preferisce perché giustamente magari io posso avere un'esigenza lui può avere un'altra esigenza e un'altra persona può avere un'altra esigenza quindi potete scegliere le specifiche dell'OPS che volete tanto è uno standard quindi è uno standard semplicemente di connessione del PC con il monitor e potete scegliere anche il sistema operativo che volete non so se volete mettere un OPS con il sistema operativo Chromebook potete tranquillamente farlo e magari integrarlo con la massima compatibilità con la suite di Google quindi assolutamente liberi Android come RAM ha 4 giga di RAM sulla serie RP 3 giga sulla serie RM e 32 giga di hard disk interno ok chiedo le caratteristiche dello schermo se è anche inflesso opaco e anche sponda mondo allora ha un vetro protettivo quindi è assolutamente adatto per le applicazioni edu è a prova di studente ha un vetro protettivo di 4 mm è antiriflesso al 25% e poi mi dicevi scusami come altra altra specifica hai detto vetro protettivo antiriflesso antiriflesso sì antiriflesso non è totalmente opaco però come dicevo è però il vetro protettivo da 4 mm e sì come dicevamo prima è anche antibatterico perché appunto ha tutta la parte di RAM resistente integrato e certificata ok adesso stiamo rispondendo per quanto riguarda l'assistenza sì 3 anni on site e elincheremo il prodotto che hanno chiesto che versione ha di Android 8 versione 8 ok il momento presenti in sala hanno qualche domanda nel frattempo il servizio di gestione remota è incluso nel prezzo o c'è un posto annuale no tutti i servizi cloud quindi AMS DMS e broadcast setting che abbiamo visto prima sono tutti gratuiti e tutti disponibili oltre a questo il monitor viene fornito anche con l'applicazione quick support integrata che permette agli team manager i tecnici o chiunque fa gestione e supporto di collegarsi con un team viewer al monitor visualizzare esattamente quello che viene visualizzato a schermo e interagire da remoto con lo schermo stesso quindi è un ulteriore aiuto per chi lo utilizza o chi magari ha problemi nell'utilizzo ok non ci sono più domande ottimo bene no direi che ci siamo poi comunque siamo a disposizione anche c'è Google Play store app come no c'è un si chiama BenQ Suggest è una una sorta di store dedicato di BenQ dove troverete le app certificate disponibili da BenQ ci sono tutta una serie di applicazioni dedicate al mondo educational e una serie di applicazioni che possiamo aggiungere adesso queste qua le abbiamo già installate tutte quindi le abbiamo viste le abbiamo viste prima stiamo mettendo link ai prodotti ok così appunto avrete modo di vedere tutto quanto quello che abbiamo detto anche in un secondo tempo tramite il sito web ok lo ripeto www.campustore.it slash BenQ quindi lì potete vedere tutto quanto ok ho fatto domande non arriva non arrivano altre domande ok non ci sono più domande allora ringrazio tutti quanti di aver partecipato e siamo disponibili per qualsiasi tipo di supporto grazie mille buona serata